Amici del canale, un saluto a tutti voi. Nel video di oggi vedremo degli innesti a corona di polloni di arance. Esattamente metteremo delle marze con tre diverse varietà di arance. Metteremo il Washington, il Tarocco e il Valencia. Avremo così una produzione a scalare che va dal mese di novembre fino al mese di giugno. Però prima, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Condividete il video se sarà di vostro gradimento e lasciate pure un like che è la gratificazione al lavoro che facciamo di settimana in settimana. Grazie, buona visione. Come si può vedere questa pianta è stata capitozzata a seguito di un incendio e dal tronco sono venuti fuori questi tre succhioni che oggi noi andremo a innestare. Li ripuliamo con il coltello da innesti dalle parti sfranciate e dopodiché andremo a fare dei tagli verticali di 5 cm nella corteccia che saranno l'alloggiamento delle nostre marze. Giriamo il coltello dopo il taglio in maniera da staccare la corteccia che si stacca facilmente. La pianta è in piena attività, in succhio. Quindi prepariamo il primo portainnesto e allo stesso modo prepareremo anche il secondo e il terzo portainnesto. Giriamo il coltello in maniera da staccare la corteccia e prepariamo l'invito per le marze, stessa cosa nel terzo portainnesto. Le marze sono dei rami di un anno abbastanza vigorosi che sono state raccolte al momento. Le liberiamo dalle foglie, stando attenti a non danneggiare le gemme che si trovano tra le ascelle delle foglie. Dopodiché andremo a preparare l'invito, cioè la parte che dovrà entrare nel portainnesto a becco di luccio. Continuiamo a ripulire dalle foglie. Facciamo fettina dopo fettina un taglio obliquo, dopodiché togliamo ai lati un filo di corteccia, prepariamo dall'altro lato l'invito e allo stesso modo facciamo tutte le altre marze. Togliamo un filo di corteccia, prepariamo l'invito, scortecciamo un po' di corteccia dietro e andiamo avanti così. Ecco come si dovranno presentare alla fine le marze. Sempre con tagli lisci e dritti, fettina dopo fettina prepariamo il nostro becco di luccio, dopodiché scortecciamo ai lati un po' di filo di corteccia, prepariamo l'invito da dietro e scortecciamo dietro. Ecco come si presenterà la marzo. Dopodiché andiamo a infilarla nel portainnesto. Con la punta del cortello allarghiamo un po' la corteccia, facciamo l'invito e la facciamo andare dentro. Come vedete anche con le mani entra perché la pianta è in attività vegetativa, la corteccia si stacca facilmente. Facciamo anche una seconda marza. Sotto il taglio che abbiamo fatto nella corteccia del portainnesto, come possiamo ben intuire, per tutta la circonferenza è tutto cambio. Di conseguenza se abbiamo fatto tagli dritti e lisci alle nostre marze, i due cambi dovrebbero andare a contatto. E da maggior ragione, dopo che li stringiamo ben forte con il nostro filo elastico. Ecco qua, facciamo un bel po' di giri, dopodiché lo leghiamo. Le due marze dovranno risultare ben ferme, strette, al portainnesto. Facciamo la seconda legatura e leghiamo anche questo. E così allo stesso modo anche con il terzo portainnesto. Stringiamo ben forte, dopodiché leghiamo. Il lavoro si conclude chiudendo prima con i sacchetti di plastica e dopo col sacchetto di carta. Non metteremo del mastici cicatrizzante per evitare di isolare l'effetto serra che si formerà con i sacchetti di plastica e quindi tenere umido l'innesto appunto dalle parti che dovranno cicatrizzare. Non avrebbe senso mettere il mastice se vogliamo che l'umidità sia idonea anche nella parte che si dovrà saldare. Ecco qua, leghiamo in maniera da ottenere questo effetto serra e quindi questa umidità e dopodiché metteremo il sacchetto di carta. Il sacchetto di carta dovrà proteggere l'innesto dai raggi diretti del sole. Il sacchetto di plastica invece si dovrà tenere per 40 giorni finché non verranno fuori le gemme. Dopo i 40 giorni il sacchetto di plastica può essere tolto. Mentre invece quello di carta si può tenere ancora fino a quando le gemme non abbiano fatto i rametti che raggiungono la lunghezza di circa 10 centimetri. Il lavoro finisce qui. Grazie per la visione vi auguro dei buoni innesti. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Attivate la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video. Un saluto. Alla prossima. Ciao.